L'espressione bene comuni traduce l'inglese commons. Cos'è un bene comune? È un bene che non è né privato né pubblico e neanche un bene collettivo. Eppure grande è la confusione sotto il cielo. Ci sono tanti che confondono il bene comune col bene pubblico. No, perché i beni comuni non hanno nulla a che vedere con la governance di tipo pubblicistico. Abbiamo bisogno dei beni pubblici e per questi c'è già una letteratura che insegna come l'ente pubblico deve intervenire. I beni comuni invece, e qui già l'aggettivo ce lo fa capire, sono beni che devono essere gestiti a livello comunitario. E qual è la formula giuridica che incarna a quest'idea? La formula della cooperativa di comunità. Ecco perché in anni recenti sono nate questi nuovi tipi di cooperative che sono le cooperative di comunità. Perché la governance dei beni comuni, se diventa privatistica, produce disastri, ma altrettanto disastrosa è una governance di tipo pubblicistico. Perché l'ente pubblico applica come suo criterio il modello burocratico, che distrugge la natura propria del bene comune. Quali sono oggi gli esempi più importanti di beni comuni? L'ambiente. L'ambiente è un bene comune, la conoscenza è un altro bene comune e certi beni culturali sono beni comuni. Eppure noi continuiamo a gestirli come se fossero beni pubblici e vediamo dopo i risultati. E cioè l'Italia, che è il paese, come dice l'UNESCO, che contiene il 50% di tutti i beni culturali del mondo, non riesce a ottenere da questo patrimonio ingentissimo i frutti economico-finanziali, ma soprattutto socio-culturali che potrebbe ottenere. E perché? Basti vedere quello che succede. Perché la governance di tipo pubblicistico, cioè di tipo burocratico, ministero, non può. E qui non è un problema di cattiveria o di maledisposizione nei confronti della gestione di questi beni da parte della politica. È che, come chi ha studiato teoria economica sa, la governance di tipo pubblicistico non può risolvere i nodi che la gestione dei beni comuni pone. Ecco perché occorre attendersi nuove forme. Un altro esempio oggi di beni comuni sono le piattaforme digitali. Quello è un bene comune. E infatti, siccome sono tutte privatizzate, stiamo scontando in questo momento storico i problemi che tutti sanno. Ecco perché occorre accelerare i tempi per far acquisire consapevolezza di questo a tutti, in particolare a coloro i quali si occupano di policy making.